Interrogato da Tutto Sport Inter e Milan giocano in modo molto vario grazie alle abilità di Spalletti e Gattuso, con Puntorini nel primo tempo, i nerazzurri insomma sono stati perfetti. E hanno dei giocatori che possono essere decisivi sulle palle da fiume, anche se non vedo il Milan cos'è strovemente su questo fiume, punto non solo i tardi contro Iguaino, sono due centravanti decisivi e alle loro spalle ci sono giocatori. E' un'avventura da interno di centrocanto approvata nella giusta collocazione.